Erano stati annunciati con una nota nella giornata di ieri i lavori di ripavimentazione sulla statale 17 nel tratto tra il Tecnopolo d'Abruzzo e lo svincolo dell'Aquila Ovest che sarebbero dovuti partire oggi. Di questi lavori stamattina non vi era traccia. L'assessore Vito Colonna ha spiegato però a Reteotto che partiranno stanotte su un tratto di viale della Croce Rossa più rovinato e su questo tratto della statale nell'ottica di creare meno disagi possibili ai cittadini. Il disagio si potrà verificare però da domani fino a lunedì perché la strada verrà rasata completamente per consentire successivamente la posa dell'asfalto e questa operazione sarà fatta lunedì notte proprio per non bloccare la città di giorno. All'Aquila infatti dal punto di vista del traffico sono giorni complicatissimi e caotici in cui il Comune sta invitando a percorrere strade alternative per non rimanere imbottigliati nel traffico. La situazione più critica, documentata già ieri ed analoga anche oggi, su Via Piccinini, all'altezza del mercato di piazza d'armi si crea un ingorgo, mentre superato questo nella nuova bretella che si sta ultimando il traffico scorre normalmente, più o meno. I problemi maggiori la mattina e nelle ore di punta, tanto che ieri i vigili sono stati costretti a chiudere il tratto. Nel tratto della 80 proseguono i lavori per la realizzazione dei dossi e sono questi lavori che stanno creando i disagi agli automobilisti. Ad ogni modo il Comune assicura che si tratterà di un paio di giorni ancora e poi sarà tutto ultimato. L'opera in sostanza va a risolvergli i problemi del traffico, i lavori erano necessari, ma dal punto di vista dell'utenza ci si chiede se magari era più opportuno farli di notte, perché la zona serve anche l'ospedale e è necessario che mezzi di soccorso possano camminare liberamente.